ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale come potremo smaltire tutti i nostri filati avanzati da progetti precedenti per esempio facendoci una bellissima borsa colorata all'uncinetto da usare in tante occasioni per esempio la possiamo utilizzare per andare a fare la spesa dato che la borsa è molto capiente come potete vedere la possiamo portare quest'estate in spiaggia in piscina o utilizzare per tante altre occasioni il filato che ho usato io è un 100% cotone l'ho lavorato con l'uncinetto numero 3 e comunque c'è da tenere presente che i filati dovrebbero avere lo stesso spessore oltre che ai filati e all'uncinetto abbiamo bisogno anche di una forbice di un ago da lana e di quattro marca punti e allora prendiamo il nostro primo colore l'uncinetto andiamo a fare un capietto iniziale e poi carichiamo un totale di 60 catenelle 1 2 3 4 5 6 fino a 60 caricate le nostre 60 catenelle andiamo ad aggiungere altre 3 catenelle una 2 e 3 prendiamo il filo sull'uncinetto saltiamo le prime 3 catenelle 1 2 3 entriamo nella quarta e andiamo a fare un punto alto così in questo caso abbiamo due punti alti il primo fatto dalle 3 catenelle andiamo a fare una catenella prendiamo il filo sull'uncinetto rientriamo nella stessa catenella e andiamo a fare un punto alto filo sull'uncinetto rientriamo ancora una volta nella stessa catenella e andiamo a fare un secondo punto alto per cui abbiamo due punti alti catenella 2 punti alti una catenella prendiamo il filo sull'uncinetto saltiamo una catenella di base entriamo in quella successiva e andiamo a fare un punto alto filo sull'uncinetto andiamo a fare una catenella filo sull'uncinetto saltiamo una catenella di base entriamo in quella successiva e andiamo a fare un punto alto filo sull'uncinetto andiamo nella prossima catenella e andiamo a fare un altro punto alto catenella filo sull'uncinetto saltiamo una catenella di base entriamo in quella successiva andiamo a fare un punto alto e poi andiamo nella prossima catenella e facciamo un punto alto facciamo sempre i gruppetti di punti alti catenella filo sull'uncinetto saltiamo una catenella di base entriamo in quella successiva e andiamo a fare un punto alto entriamo nella catenella dopo e andiamo a fare un punto alto facciamo sempre due punti alti una catenella saltiamo una catenella di base andiamo a fare i prossimi due punti alti poi facciamo la catenella saltiamo una catenella di base i prossimi due punti alti dopo aver fatto i due punti alti andiamo a fare la catenella saltiamo una catenella di base andiamo a lavorare le prossime due maglie alte facciamo la catenella saltiamo una catenella di base andiamo a fare le prossime due maglie alte e così lavoriamo su tutte le catenelle finché ci restano le ultime due catenelle e poi ci rivediamo sono arrivata quasi alla fine ho lavorato sulle mie catenelle e mi restano due catenelle dopo aver fatto le ultime due maglie alte vado a fare ancora una catenella salto la prossima catenella e nell'ultima catenella vado a lavorare prima due punti alti catenella di separazione altri due punti alti nella stessa catenella catenella di separazione e altri due punti alti per cui nell'ultima catenella ho fatto due punti alti catenella due punti alti catenella due punti alti adesso vado a fare la catenella giro leggermente il lavoro e adesso torniamo indietro per cui prendo il filo sull'uncinetto salto il primo punto entro in quello successivo che poi è il primo punto alto che ci troviamo e vado a fare un punto alto sopra il punto alto di fronte un altro punto alto sopra il punto alto di fronte catenella di separazione salto il prossimo punto e vado nel punto successivo che è quello sopra la maglia alta di fronte e faccio un punto alto e praticamente vado a ripetere quello che ho fatto di fronte catenella salto un punto vado sopra la maglia alta di fronte faccio un punto alto faccio un punto alto sopra la prossima maglia alta un punto alto catenella di separazione salto un punto sopra la maglia alta vado a fare una maglia alta sopra la prossima maglia alta una maglia alta catenella salto un punto vado sopra la prossima maglia alta faccio una maglia alta sopra la prossima maglia alta una maglia alta catenella di separazione salto il punto e procediamo così fino al termine della riga non sono riuscita a terminare la riga perché nel frattempo è finito il mio filo e adesso vi faccio vedere come vado a unire filo vecchio con filo nuovo allora per unire i due fili io vado semplicemente a prendere la fine del filo e l'inizio dell'altro filo vado a fare un nodino tiro bene e poi taglio questi due fili in eccesso se poi voi avete un altro modo per unire i due fili potete usare benissimo quel modo lì e adesso andiamo avanti con il nostro primo giro che terminerò insieme a voi io avevo fatto i due punti alti e la catenella prendo il filo sull'uncinetto salto il prossimo punto vado sopra il punto alto e faccio un punto alto sopra il prossimo punto alto un punto alto catenella saltiamo il prossimo punto andiamo sopra il punto alto ciao 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 violenza oh siamo arrivati quasi alla fine dopo aver fatto i due punti alti vado a fare la catenella e in questo primo punto dove abbiamo già dentro due maglie alte catenelle e due maglie alte la prima sostituita dalle tre catenelle rientro e vado a fare due punti alti una catenella e poi entro nella terza catenella in tutte e due le asole e faccio un punto bassissimo e così abbiamo terminato il nostro primo giro iniziamo il giro numero due e come lavoriamo questo giro lavoreremo tutti gli altri giri ci alziamo con tre catenelle e queste tre catenelle sostituiscono la prima maglia alta prendiamo il filo sull'uncinetto entriamo sopra la prossima maglia alta e andiamo a fare un punto alto catenella di separazione poi saltiamo la catenella del giro precedente andiamo sopra la maglia alta e andiamo a fare un punto alto e sopra la prossima maglia alta un punto alto catenella filo sull'uncinetto saltiamo la catenella del giro precedente andiamo sopra la prossima maglia alta e andiamo a fare un punto alto e sopra la prossima maglia alta un punto alto catenella filo sull'uncinetto saltiamo la catenella andiamo sopra il prossimo punto facciamo un punto alto e sopra il prossimo punto un punto alto catenella filo sull'uncinetto saltiamo facciamo un punto alto e poi un punto alto anche sopra il prossimo punto alto catenella e lavoriamo in questo modo per tutto il giro ora io sono arrivata quasi alla fine del secondo giro ho fatto come potete vedere intanto ho cambiato anche colore ho fatto le ultime due maglie alte vado a fare la catenella e poi all'inizio noi facciamo sempre le tre catenelle che sostituiscono la prima maglia alta entro nella terza catenella e vado a fare un punto bassissimo e abbiamo così terminato il nostro secondo giro iniziamo giro numero tre con tre catenelle una due e tre queste tre catenelle sostituiscono la prima maglia alta e poi andiamo a ripetere lo stesso identico schema che abbiamo fatto nel giro precedente andiamo sopra il punto alto e andiamo a fare un punto alto catenella di separazione saltiamo la catenella del giro precedente e andiamo sopra il prossimo punto alto andiamo a fare un punto alto sul prossimo punto alto un punto alto catenella di separazione saltiamo la catenella del giro sottostante andiamo sopra il prossimo punto alto facciamo un punto alto sopra il prossimo punto alto un punto alto e così andiamo a fare giro dopo giro per un totale di 30 giri e poi ci rivediamo ho terminato i miei 30 giri e questo nel frattempo è il risultato io lo trovo molto molto bello tutti questi colori che come ti danno come un'energia positiva insomma io la trovo molto molto carina questa borsa e adesso andiamo a fare l'ultimo giro che sarà un giro di punti bassi dopo aver chiuso l'ultimo giro con un punto bassissimo nella terza catenella andiamo a fare una catenella rientriamo nello stesso punto dove siamo entrati per fare il punto bassissimo e andiamo a fare un punto basso andiamo sopra il prossimo punto alto e facciamo un punto basso poi entriamo nello spazio della catenella e facciamo un punto basso sopra la prossima maglia alta un punto basso sopra la prossima maglia alta un punto basso nello spazio della catenella un punto basso un punto basso sopra la prossima maglia alta un punto basso sopra la prossima maglia alta un punto basso nello spazio della catenella e andiamo a fare questo lavoro per tutto il giro. Per aver terminato il giro e fatto l'ultimo punto basso allunghiamo l'asola tagliamo questo filo e andiamo a chiudere il giro con l'asola di chiusura. Allora ci procuriamo il nostro ago da lana infiliamo il filo e poi saltiamo il primo punto basso entriamo nel secondo con l'ago in tutte e due le asole facciamo passare ago e filo e poi entriamo nella costina dietro dell'ultimo punto basso in questo modo facciamo passare ago e filo e poi tiriamo delicatamente il filo e così della chiusura del giro non si vede assolutamente niente. Adesso questo filo lo possiamo nascondere all'interno della nostra borsa facendolo passare fra qualche maglia cerchiamo di non tirare troppo perché sennò deformiamo la borsa e dopo averlo nascosto per bene tagliamo il filo in eccesso. E la borsa l'abbiamo terminata adesso ci dobbiamo occupare del cordino a dire la verità dei cordini perché dobbiamo farne due. Prendiamo il filato colore la nostra scelta lasciamo un pezzetto di filo lungo e andiamo a fare un capietto iniziale e poi carichiamo un totale di due catenelle una e due. Entriamo nella prima catenella peschiamo il filo lo portiamo di qua e abbiamo due asole. Prendiamo il filo e passiamo attraverso la prima asola ci restano due asole poi passiamo il filo e chiudiamo le ultime due asole insieme. Adesso entriamo in questa asolina qua sotto. Prendiamo il filo passiamo attraverso l'asola e restano due asole sull'uncinetto. Prendiamo il filo e chiudiamo le due asole insieme. Adesso qua ci troviamo sempre due asoline che dovremmo lavorare per cui entriamo con l'uncinetto all'interno di queste due asole prendiamo il filo passiamo prima attraverso le due asole restano due asole sull'uncinetto e poi prendiamo il filo e chiudiamo le due asole insieme. Di nuovo qua abbiamo due asole entriamo in queste due asoline. Prendiamo il filo e chiudiamo prima le due asole restano poi due asole sull'uncinetto prendiamo il filo e chiudiamo le due asole insieme. Di nuovo qua abbiamo le due asoline entriamo in queste due asoline prendiamo il filo passiamo prima attraverso le due asole e poi chiudiamo le due asole sull'uncinetto insieme. Di nuovo entriamo in queste due asoline prendiamo il filo passiamo prima attraverso le due asole poi restano due asole sull'uncinetto che chiudiamo insieme. Di nuovo entriamo in queste due asoline prendiamo il filo passiamo attraverso le due asole e poi chiudiamo le due asole sull'uncinetto e in questo modo andiamo avanti a fare il nostro cordino per una lunghezza di circa 60 centimetri. Ho raggiunto la lunghezza di circa 60 centimetri del mio cordino arrivati al termine basta che andiamo a fare una catenella tiriamo bene allunghiamo l'asola tagliamo il filo e lo sfidiamo. Chiaramente di questo cordino ne dobbiamo fare due potete farlo dello stesso colore ma anche di un colore diverso. Allora terminati i nostri due cordini che io ho fatto di colori diversi l'unica cosa che ci resta adesso cucire i cordini sulla nostra borsa. Allora per cucire correttamente i nostri cordini andiamo a mettere la borsa a metà e poi contiamo da un lato 1 2 3 4 5 spazi e nel sesto mettiamo il marca punti. La stessa identica cosa la faremo dall'altra parte contiamo 1 2 3 4 5 spazi nel sesto mettiamo il marca punti e in mezzo abbiamo 9 spazi liberi. Chiaramente la stessa identica cosa la faremo sul dietro del nostro lavoro e poi prendiamo il nostro cordino infiliamo all'interno dell'ago il filo e poi cerchiamo il punto che abbiamo segnato con il marca punti entriamo con l'ago all'interno facciamo passare un pezzetto di cordino e io personalmente cucio in questo modo piego il cordino in questo modo e poi con dei punti lo fisso con dei punti semplici passo da una parte all'altra e all'altra e cucio bene il cordino terminata la cucitura su un lato possiamo togliere il nostro marca punti e fare lo stesso lavoro dove abbiamo posizionato l'altro marca punti e una volta che abbiamo cucito i due cordini che rappresentano i nostri manici questo è il nostro risultato finale spero che questo video vi sia piaciuto se così lasciatemi un like abbonatevi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial ciao